Lascio subito la parola al professor Gutta D'Auro. Le domande in chat, mi raccomando, ascoltiamo prima, poi interveniamo in chat per quanto riguarda le domande. Un buon ascolto a tutti, io interverrò mano a mano che si procede con l'aspetto formativo, dando qualche piccola scossa per vedere il livello di attenzione. Grazie a tutti di essere con noi, io sono qua. Benvenuti a tutti quanti e buona formazione a tutti. Bene, non c'è l'audio. No, no, c'è audio, c'è audio, professore, guarda che c'è, la sentiamo bene. Quindi mi senti te? Perfetto. Sì, la sentiamo, professore, la sentiamo bene. Perfetto. Allora, non vedo più le slide. È successo. Un attimo solo che c'è sempre, sempre questo piccolo disguido, ma c'è, in regia c'è sempre il buon Angelo Marelli che ci soccorre. Direi che la necessità e l'urgenza è importantissima, professore. Cosa dice in questo momento? Anche dal punto di vista psicologico sta diventando importantissima. Sì, adesso vedo anche le slide. Se voi mi sentite, possiamo quindi partire. Allora, sì, il titolo è Da urgenza a necessità. Credo che ribadisca quello che io ormai da, ma penso tutti, sentiamo parlare da più di dieci anni. E quindi del problema della previdenza, del problema di arrivare in età pensionabile con un tenore di vita decoroso. Allora, dico subito il mio parere. È vero che quasi tutti i giorni si sente parlare di pensione sui media, sulle televisioni, su qualsiasi strumento di comunicazione. Il problema, secondo me, è che fin tanto che queste notizie vengono date dai media, piuttosto che dagli intermediari, siano essi finanziari, piuttosto che assicurativi, rimane, diciamo così, latente. Mentre questi messaggi dovrebbero essere dati da chi di dovere. E quindi mi rivolgo in maniera specifica a chi ci guida. Allora, se questi messaggi fossero dati da istituzioni pubbliche, probabilmente la sensibilizzazione delle persone sarebbe molto ma molto maggiore. Detto questo, io partirei con questo incontro dove chiaramente non faremo una lezione sulla previdenza obbligatoria. Quindi non è un incontro di formazione, ma è un incontro di informazione barra sensibilizzazione. Cioè cercherò di darvi delle informazioni che poi voi liberamente potrete sviluppare, potete personalizzare, eccetera, eccetera, per trovare degli spunti commerciali, delle chiavi di ingresso con i vostri clienti. Mi inserisco un secondo solo, professore. Vorrei dare notizia a tutti quanti. Eccezionale numero di accessi per quanto riguarda questo webinar. Mi dicono dalla regia che siamo veramente full, 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 pienissimi di iscritti. Per gli altri ci sarà modo, come dicevo, di poterlo rivedere gratuitamente domani su Carai. Mi scusi, professore. No, ci mancherebbe. Anzi, ha dato un'informazione che mi fa molto ma molto piacere. Allora, il problema della previdenza, che poi non è solo di previdenza, come vedremo, nasce perché c'è un problema sul sistema previdenziale obbligatorio. Quindi magari vediamo di fare una rapida carellata, però secondo me importante, su quello che è un pochino di storia del nostro sistema previdenziale obbligatorio. Tutti noi siamo, credo, ben informati su quello che è successo dal 92 in poi e quindi parliamo di tutte le riforme, riformine, riformette, controriforme, controriformine che ci sono state, ma probabilmente pochi conoscono come il nostro sistema previdenziale pubblico si sia sviluppato fino all'inizio delle riforme. Allora, ci sono delle date molto interessanti, ma anche degli argomenti molto importanti. Il trattamento minimo di pensione, che oggi fra l'altro è stato abolito per chi si trova in un regime esclusivamente contributivo, nasce nel 1952, quindi ancora prima della mia nascita, mentre pochi anni dopo la mia nascita viene estesa la previdenza obbligatoria nel settore dell'agricoltura. I lavoratori autonomi, ovvero artigiani e commercianti, hanno dovuto aspettare il 1966 per avere anche loro una forma di previdenza obbligatoria. Questa data fa molto male, fa molto male perché è una delle cause principali della situazione in cui noi ci troviamo oggi. Parlo del 1965. In quell'anno è stata introdotta la pensione di anzianità, pensione di anzianità che maturava con 35 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica. Una pensione anomala che ancora oggi in Italia abbiamo e che non trova riscontro in nessun'altra parte del mondo. Pensate che la pensione di anzianità per i dipendenti statali maturava con 20 anni di contribuzione, mentre per i dipendenti degli enti locali con 25. Questo ha creato un esercito dei cosiddetti baby pensionati. Nel 1969 siamo passati dal sistema di capitalizzazione a quello della ripartizione con la legge Brodolini. Nel 1993 è stato istituito l'Impdap che ha assorbito una serie di casse pubbliche, dipendenti statali, dipendenti sanitari, dipendenti enti locali, cassa pensione ufficiali giudiziali e così via, che sono stati accorpati all'interno dell'Impdap. Questa ve la mostro per pura curiosità. Allora, nel 2021, quindi alla fine del 2021, noi avevamo ancora in vita quasi 200.000 baby pensionati, 36.330 maschi e ben 149.500 donne. I maschi avevano una decorrenza media della pensione di anzianità di 45 anni di età, mentre le donne avevano una decorrenza media di 42 anni. Attenzione che parliamo di età media, quindi vuol dire che noi abbiamo creato dei baby pensionati pubblici ben sotto, spesso, ai 40 anni di età. e questo evidentemente ha comportato una serie di problematiche finanziarie, perché ancora oggi noi abbiamo una spesa di circa 3 miliardi di euro per mantenere questo regalo che è stato fatto negli anni Sessanta. Ma veniamo alle riforme. Veniamo alla riforme perché a un certo punto negli anni Sessanta il nostro paese è entrato in una situazione di rallentamento dell'economia, che è stato dovuto soprattutto anche alla crisi petrolifera che c'è stata nel periodo di 73-76. Questo ha comportato un grandissimo aumento della spesa pubblica a sostegno di coloro che ovviamente in quel periodo di crisi non trovavano lavoro e in aiuto alle imprese in difficoltà. Quindi in quegli anni c'è stato un fortissimo aumento del debito pubblico. La conseguenza è che negli anni Ottanta per riequilibrare un pochino la situazione si è dovuto intervenire con un inasprimento della pressione fiscale. Ovviamente la spesa che più gravava oltre a quella sanitaria era quella previdenziale. E quindi, volenti o nolenti, negli anni Novanta sono iniziate una serie di riforme. La prima riforma che tutti noi conosciamo è la riforma Amato. La riforma Amato ovviamente non poteva assolutamente intervenire in maniera pesante. Perché? Perché fino allora nessuno aveva mai messo mano alle pensioni. Per cui è stata una chiave di ingresso. È stata una riforma che poi ha dato luogo alle vere riforme che si sono succedute. La riforma Amato non ha fatto nient'altro che aumentare l'età pensionabile di 5 anni per l'esattezza e ha aumentato anche quel periodo che ai tempi serviva per calcolare la pensione. Cioè la media di un certo numero di anni immediatamente precedenti il pensionamento. Amato ha iniziato anche il processo di armonizzazione perché dovete sapere che fino a quel periodo nel nostro paese c'erano più di 60 gestioni previdenziali pubbliche. ognuno si faceva la propria gestione previdenziale. Il povero operaio che lavorava in fonderia andava in pensione a 60 anni di età. C'erano altri lavoratori sempre dipendenti che invece avevano età pensionabili e soprattutto regimi di calcolo della pensione più favorevoli che per avere queste migliorie si erano creati ognuno una propria gestione previdenziale. Le cosiddette forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Amato ha iniziato il processo di armonizzazione e in più sono nate le prime forme di previdenza complementare che oggi vengono chiamati fondi negoziali preesistenti o vecchi fondi perché in quegli anni soprattutto nelle grandi imprese nelle compagnie assicurative piuttosto che negli istituti di credito si erano create delle forme di previdenza complementare rivolte però esclusivamente ai dipendenti delle stesse aziende. e finalmente nel 1993 con il decreto 124 è stata disciplinata la previdenza complementare anche in Italia istituendo il cosiddetto secondo pilastro con le forme ad adesione collettiva. Quindi nel 1993 sono stati disciplinati fondi pensione aperti e i fondi pensione chiusi ovvero fondi pensione negoziali che si sono quindi affiancati a quei fondi preesistenti che già esistevano. Nel 1995 arriva finalmente quella che può essere chiamata riforma con una R maiuscola è la cosiddetta riforma Dini questa riforma ha introdotto come tutti noi sappiamo il regime contributivo pro quota a partire dal 1996 la riforma di Dini deve essere anche ricordata per l'istituzione della gestione separata gestione separata che vi ricordo fu creata per dare una forma di previdenza obbligatoria a tutte quelle categorie di lavoratori che fino a quel momento non avevano obblighi contributivi e che quindi fino a quel momento non versavano contributi previdenziali ma la grande intuizione di Dini fu quella di introdurre nel nostro paese la flessibilità in uscita infatti con la riforma Dini il lavoratore poteva liberamente scegliere l'età pensionabile e quindi decidere di abbandonare il lavoro dai 57 ai 65 anni ovviamente con una riduzione in funzione dell'età sull'importo della pensione prima si decideva di andare in pensione e minore era l'importo più tardi si rinviava la pensione e maggiore era l'importo erogato nel 2000 abbiamo il decreto 47 con questo decreto nascono le adesioni individuali alla previdenza complementare quindi a partire dal 2001 è stato possibile aderire alla previdenza complementare anche in maniera individuale mentre fino ad allora l'adesione era esclusivamente collettiva quindi in buona sostanza rispettiva riservata ai fondi pensione aperti piuttosto che ai fondi pensione chiusi nel 2004 arriva la riforma Maroni la riforma Maroni viene ricordata soprattutto per aver appesantito il debito pubblico quindi per aver appesantito il carico finanziario sulle spalle dell'Inps perché Maroni per incentivare il rinvio delle pensioni di anzianità che stavano maturando aveva offerto a tutti i dipendenti il cosiddetto super bonus cioè la possibilità di rimanere al lavoro con un incentivo che era pari al 33% della retribuzione lorda annua netta in busta paga vi faccio vi faccio un esempio su tutti un dirigente che ai tempi aveva una ralla quindi una retribuzione annua lorda di 200.000 euro se attendeva di andare in pensione di anzianità percepiva 66.000 euro netti in busta paga esattamente il 33% della retribuzione lorda Maroni ha aumentato anche l'età pensionabile per la vecchiaia e l'anzianità contributiva per la pensione cosiddetta di anzianità una cosa che non è mai a me non è mai quadrata e non ho mai capito la motivazione con Amato eccoci qua riprendiamo l'audio eccoci qua con Amato eravamo un piccolo problema dato adesso ci siamo ci siamo perfetto non so dove mi avevate perso ma stavo dicendo Amato 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 il nostro Amato la riforma Amato la riforma Amato quindi dall'inizio mi avete perso no 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 stavo dicendo professore la riforma Amato la riforma Amato era proprio sull'abolizione della flessibilità in uscita a quel punto ah perfetto quindi riforma Amato Amato perfetto quindi con la riforma Amato Amato viene abolita la flessibilità in uscita introdotta dalla riforma Dini quindi significa che il lavoratore non può più decidere di scegliere l'età pensionabile da 57 a 65 anni ma torna l'età pensionabile di 60 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini nel 2005 esce il decreto numero 52 il decreto numero 52 è un decreto che revisiona quel decreto che aveva istituito la presidenza complementare in Italia cioè il decreto 124-93 qui c'è un errore non è 94 ma è 93 l'altro errore che non è il decreto 52 ma è il decreto 252 al di là di questo questo decreto equipara tutte le forme di previdenza complementare forme ad adesione collettiva e ad adesione individuale ma diventa importantissimo perché con questo decreto nasce la possibilità di conferire il TFR alla presidenza complementare infatti il conferimento del TFR alla presidenza complementare è partito il primo gennaio 2007 anno in cui è entrato in vigore questo decreto questo decreto rivede anche il sistema di tassazione delle prestazioni in maniera ovviamente favorevole e quindi dal 2007 la tassazione delle prestazioni è suddivisa in tre diverse quote quindi la prestazione maturata fino al 2000 la prestazione maturata dal 2001 al 2006 e la nuova fiscalità per la prestazione maturata dal primo gennaio 2007 in avanti interrompo un attimo professore ma proprio sul conferimento del TFR in azienda per i dipendenti sotto i 50 collaboratori proprio adesso è uscito recentemente il tasso di 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 che mi sembra si attesti intorno al 9% vista l'impulazione che c'è quindi se rimane in azienda è a carico dell'azienda se è trasferito al fondo complementare non è a carico dell'azienda è una è una leva molto importante secondo me questo aspetto qui soprattutto oggi con questo tasso di conferimento cosa dice lei di questo aspetto sì questo è un aspetto diciamo finanziario barra commerciale estremamente interessante perché con l'inflazione a due cifre che c'è stata la rivalutazione del TFR che è legata per il 75% all'inflazione evidentemente porta il costo per l'azienda se mantiene il TFR a livelli molto ma molto elevati per cui credo che questo sia un periodo ideale per andare nelle aziende parlare con gli imprenditori e fagli capire il costo che devono sostenere per mantenere il TFR in azienda credo che sia il periodo migliore legato proprio a quella parte variabile di rivalutazione del TFR che è il 75% dell'inflazione quindi vuol dire che quando l'inflazione è è elevata la parte fissa quindi l'1,5% praticamente è ininfluente cambiano le cose quando invece l'inflazione tende a zero quando l'inflazione tende a zero quell'1,5% diventa la parte più consistente oggi come diceva lei invece le parti si sono invariate quindi la parte più consistente più pesante è diventata è diventata l'inflazione perché il 75% del 10% fa già di per se stesso il 7,5% se poi aggiungiamo anche l'1,5% di inflazione arriviamo tranquillamente a un 9% di rivalutazione annua che non è cosa di poco conto anche se per quanto riguarda il TFR la trattativa che deve essere fatta dall'intermediario è duplice perché l'intermediario deve fare la prima trattativa col datore di lavoro per fargli capire il risparmio che lui avrebbe se il dipendente trasferisce il TFR alla previdenza complementare ma il secondo passaggio è convincere il dipendente a trasferire il TFR alla previdenza complementare perché il TFR non può essere destinato ad iniziativa dal datore di lavoro non è come il TFR messo in una polizza e accantonato dal datore di lavoro il conferimento del TFR necessita della richiesta da parte del lavoratore quindi c'è da fare una doppia trattativa e poi andare a convincere i dipendenti del perché sarebbe meglio anche per loro trasferire il TFR alla previdenza complementare piuttosto che lasciarlo in azienda comunque sono d'accordo con lei questo è il momento migliore da sfruttare per andare a parlare con gli imprenditori ritornando al decreto 252 una piccola osservazione allora io credo che il problema previdenziale sia uno tra i problemi più seri che una persona possa avere ovviamente dopo la salute allora se è veramente un problema serio io credo che un buon governo dovrebbe far in modo di far percepire ai propri cittadini l'importanza di pensare alla propria pensione non solo futura come vedremo ma soprattutto a quella che potrebbe maturare oggi ora per quanto riguarda la pensione futura noi abbiamo visto che c'è stata una legge che ha disciplinato la previdenza complementare previdenza complementare che dai dati non ha avuto questo gran successo questo gran decollo ma se i nostri politici continuano a insistere su leve che non hanno nulla a che vedere con l'integrazione pensionistica vera la previdenza complementare non decollerà mai oppure ancora cosa più grave decollerà solo a favore di quella parte di cittadini che non hanno bisogno di integrazione pensionistica perché se noi insistiamo sulla leva fiscale beh questo è un argomento che non interessa il povero impiegato che guadagna 1400 euro al mese perché il povero impiegato che guadagna 1400 euro al mese di poter dedurre fino a 5100 euro non gli interessa nulla e il povero impiegato che pensa alla previdenza integrativa non gli interessa poter riscattare tutto sotto forma di capitale né tantomeno gli interessa poter avere anticipazioni per il 30% senza motivazioni allora o noi consideriamo la previdenza complementare come un qualcosa che veramente debba pensare a integrare la pensione oppure la previdenza complementare viene confusa come viene confusa oggi come una forma di investimento finanziario molto interessante perché è deducibile ma io mi compro questo bel giocattolino che si chiama previdenza complementare lo deduco dalle imposte quindi ho un risparmio fiscale e poi posso farne ciò che voglio posso riscattare tutto il capitale a scadenza perché con l'introduzione della rita anche questo è possibile posso chiedere anticipazioni fino al 30% senza dare motivazioni e così via cioè noi abbiamo creato uno strumento che dovrebbe essere di integrazione pensionistica in uno strumento commercialmente distribuibile ecco secondo me questo è un grandissimo errore perché di strumenti flessibili in cui il cliente può fare ciò che vuole ce ne sono un'infinità era inutile aggiungere la previdenza complementare e equipararla a quest'altri tipi di strumenti detto questo proseguo altrimenti mi arrestano e arriviamo nessuno l'arresta nessuno l'arresta solo una piccola nota c'è la sensibilità dopo quello che abbiamo attraversato delle forche caudine del covid la sensibilità è un pochino cambiata sia dal punto di vista degli imprenditori che anche dei collaboratori c'è ma quantomeno più attenzione all'aspetto di sopravvivere ai propri risparmi o di non avere pensato al proprio futuro quindi il covid ci ha un po' cambiato il percepito secondo me dal punto di vista anche psicologico perché sì è vero quello che dice lei professore ma andando a parlare con gli imprenditori e parlo di quelle sotto i 50 dipendenti sotto i 50 in cui c'è un terreno ci sono delle praterie dal punto di vista operativo lì è cambiato qualcosa dal punto di vista del percepito secondo me quello che io vivo nel mio piccolo o quello che vivono anche gli altri professionisti che sono collegati in questo momento secondo me è cambiato qualcosina dal punto di vista proprio della riflessione che uno sta facendo su se stesso sul proprio futuro certamente certamente questo è vero e io sono altrettanto sicuro che fra 10 20 30 anni noi avremo nel nostro paese un mercato di domanda di previdenza complementare come lo è in tutti gli altri paesi del mondo il grande diciamo che il problema oggi è che ancora questa cultura che io mi auguro si svilupperà non è completamente sviluppata per cui ancora oggi c'è una cultura che non è rivolta verso la vera integrazione pensionistica ma è rivolta piuttosto al vero interesse finanziario che io posso avere per sottoscrivere una forma di previdenza complementare detto questo io andrei avanti con le date e passerei all'amico Prodi che nel 2007 introdusse le quote per la pensione di anzianità infatti allora si andava in pensione di anzianità con le cosiddette quote a raggiungimento di una certa quota che è la somma tra età anagrafica e anzianità contributiva si poteva andare in pensione Prodi poi ha introdotto quella revisione automatica dei coefficienti di conversione per il calcolo della pensione contributiva è stato Prodi nel 2007 che ha introdotto in maniera automatica ogni tre anni la revisione di quei coefficienti in base ovviamente all'aspettativa di vita media comunicata dall'Istat revisione che oggi vi ricordo non è più triennale ma è diventata biennale quindi oggi ogni due anni c'è la revisione mentre nel 2007 questa revisione era ogni tre anni nel 2010 nel 2010 arriva una riforma conosciuta come riforma Sacconi questa riforma viene abbastanza dimenticata ma secondo me è importante far capire alle persone che nel 2010 c'è stato un governo che ha introdotto in Italia una forma di appropriazione in debita che sono le cosiddette finestre di uscita cioè nel 2010 cari i miei cittadini dovete sapere che è stata introdotta una finestra di 18 mesi per i lavoratori autonomi e di 12 mesi per i lavoratori dipendenti quando maturavano la pensione di vecchiaio e di anzianità cioè vuol dire che dopo che avevo maturato il diritto e sottolineo la parola diritto a una pensione per 12 o per 18 mesi io non maturavo nessun importo maturavo se ero un dipendente la mia prima rata di pensione dopo 13 mesi e se ero un lavoratore autonomo dopo 19 mesi questo è stato introdotto nel 2010 oltre a ciò la riforma Sacconi ha introdotto per la prima volta nel nostro paese l'adeguamento alla speranza di vita media per il requisito della pensione di vecchiaia quello che viene attribuito alla riforma Fornero fu introdotto invece nel 2010 dalla riforma Sacconi nel 2011 siamo arrivati finalmente alla fine abbiamo fatto una bella veloce carrellata arriva la riforma Monti la riforma Monti come voi sicuramente conoscete ha introdotto il calcolo contributivo per tutti perché fino alla riforma Monti avevamo ancora cittadini di serie A e cittadini di serie B perché c'erano persone che andavano in pensione con regime retributivo e persone che andavano in pensione con regime misto piuttosto che contributivo bene dal 2012 con la riforma Monti tutti abbiamo uno spezzone di calcolo contributivo ricordo che la riforma Monti conosciuta anche come riforma Fornero ha finalmente abolito le finestre di uscita quindi quando mi si viene a dire che con la riforma Monti Fornero è aumentata l'età pensionabile probabilmente non è così vero perché prima di questa riforma l'età pensionabile non era di 66 anni l'età pensionabile era già di 67 anni con la finestra di 12 mesi e addirittura era di 67 anni e 6 mesi per i lavoratori autonomi la riforma Fornero ha anche equiparato l'età pensionabile di vecchiaia tra uomini e donne che prima era differenziata attenzione che con questa riforma i nostri giovani devono sapere che non possono maturare la pensione di vecchiaia a 67 anni di età ovvero la possono maturare con la condizione di avere un importo dell'assegno almeno pari a 1-5 volte l'assegno sociale perché se l'importo della pensione non è almeno pari a 1,5 volte l'assegno sociale il nostro giovane deve attendere 71 anni di età per poter andare in pensione indipendentemente dall'importo la riforma Monti Fornero introduce anche un'altra possibilità di uscita che è la pensione di vecchiaia anticipata riservata ai soli giovani contributivi cioè chi si trova in regime di calcolo contributivo può maturare una pensione di vecchiaia non a 67 anni bensì a 64 tre anni prima a condizione che abbia un importo di pensione almeno pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale chiudo questo rapido cappello mostrandovi nel 2023 quali sono le possibili uscite che una persona ha dal mondo del lavoro nel 2023 si può andare in pensione di vecchiaia ordinaria si può andare in pensione anticipata ordinaria si può andare in pensione di vecchiaia anticipata solo per i contributivi puri e poi abbiamo quelle novità che sono state via via introdotte che sono l'opzione donna ancora oggi percorribile l'ape sociale la quota 103 e la cosiddetta quota 41 per i lavoratori precoci io qui farei una piccola pausa non perché sono stanco ma perché prima di introdurre un argomento secondo me molto ma molto importante da un punto di vista culturale e di consapevolezza vorrei rispondere se ci sono delle domande riguardo a quello che stanno arrivando le domande ma ci sta dando adesso come strumenti anche l'educazione finanziaria vista anche il progetto di ncp di divulgazione di educazione finanziaria per i giovani lei ci ha dato già degli spunti molto interessanti per far riflettere già oggi quest'aspetto qui del durante me perché c'è la legge del dopo di noi ma c'è anche il durante e il me durante la mia vita come dicono quelli bravi ma i termini inglesi non si possono più usare life cycle potrei essere multato potrei essere multato immediatamente e quindi il cerchio della vita riguardante la mia persona quindi andando a parlare sì con gli imprenditori e i loro collaboratori utilizzando come dicevo tutti gli strumenti che ci sta dando lei ma anche il cavallo di troia come dicevo del welfare aziendale calato nelle realtà aziendali e per quanto riguarda la divulgazione educazione finanziaria che NCP sta sempre più implementando andando a parlare negli istituti scolastici anche come mi dice il nostro buon Angelo Marelli come divulgatori in questo aspetto qui ma facendo un'azione concreta lei dice sempre ci vorrebbe l'istituzione ma se dal basso parte questo aspetto qui per noi come funzioni consulenti finanziari ed educatori finanziari penso che sia anche come dicono quelli bravi una mission impossible ma possible perché ci sta dando questi strumenti vedo qui che stanno già arrivando qui delle domande vediamone una così velocemente avete anche assemblato un formato per l'adaptatore divulgatore delle scuole per le imprese questo la passo al direttivo di NCP che sta lavorando su questa tematica non è il focus di questa sera ma so che stanno valutando questo aspetto qui per questa oggi ci stiamo focalizzando su cosa è lo stato dell'arte e come possiamo andare senza togliere le personalizzazioni che possiamo fare ognuno con le proprie esperienze ognuno con le proprie capacità di poter poi andare a parlare con gli imprenditori secondo me è il canale più diretto e più immediato per poter poi si divulgare ma anche poter poi fare penetrazione dal punto di vista commerciale nelle aziende perché fino adesso chi fa ancora reddito in questi qui in Italia sono gli imprenditori e quindi questo è il canale direi che abbiamo fatto una piccola pausa così digressiva le domande arriveranno se ne saranno sicuramente presto perché c'è la riflessione ma penso che il tema che vedo lì il ristro pensione sia il centro di tutto quanto l'intervento suo direi di proseguire perfetto allora entriamo in questo argomento che io ho chiamato chiamo rischio pensione allora in linea generale qualsiasi tipo di rischio deve essere gestito e quindi affrontato quando rappresenta un potenziale danno economico in caso di accadimento che il soggetto a cui succede l'evento dannoso non è in grado di sopportare sulle proprie spalle e che quindi potrebbe avere delle conseguenze molto negative sul proprio patrimonio questo in linea generale allora attenzione che anche la pensione potrebbe non ho detto può potrebbe rappresentare un rischio da dover affrontare e gestire perché perché la pensione è un evento sicuramente futuro in quanto non è ancora successo però vi ricordo che è un rischio certo un evento sicuro poi vedremo perché e che potrebbe provocare un danno economico questo danno economico potrebbe essere un rischio sopportabile dal soggetto oppure attenzione potrebbe essere un rischio che deve deve essere affrontato e gestito la pensione signori miei è un rischio certo perché è come la morte cioè un evento che accadrà di sicuro e dove l'incertezza sta esclusivamente nel quando accadrà la stessa cosa vale per la pensione la pensione è un evento con cui prima o poi tutti dovremo confrontarci non è un evento a cui qualcuno può sfuggire la pensione è un evento ahimè o fortunatamente con cui tutti e sottolineo tutti prima o poi dovremo confrontarci cerchiamo di capire il perché innanzitutto vediamo quali sono le pensioni che possono maturare e le pensioni che possono maturare sono sei noi abbiamo sei pensioni che potrebbero maturare la vecchiaia l'anticipata l'invalidità l'inabilità e le due pensioni superstiti la pensione superstiti indiretta e la pensione superstiti reversibile queste sei pensioni possono maturare in orizzonti temporali differenti allora durante il ciclo di vita di un individuo nella fase attiva quindi nella fase lavorativa le pensioni che potrebbero maturare ahimè sono l'invalidità l'inabilità e l'indiretta mentre le pensioni che possono maturare solo in fase di pensionamento quindi dopo l'attività lavorativa sono la pensione di vecchiaia la pensione anticipata e la pensione reversibile vi ricordo che le due pensioni superstiti si distinguono in indiretta e irreversibile in funzione del soggetto che viene a mancare se il soggetto che viene a mancare è chi ancora lavorava si parla di pensione superstiti indiretta se invece il soggetto che viene a mancare è colui che era già titolare di pensione si parla di pensione superstiti reversibile e veniamo al dunque queste sei pensioni possono essere catalogate in due grandi gruppi ci sono le pensioni che possono maturare oggi e ci sono le pensioni che invece possono maturare solo in futuro le pensioni che possono maturare oggi purtroppo sono l'invalidità l'inabilità e la pensione indiretta queste pensioni maturano per via del destino non c'è un'altra causa perché dovrebbe maturare una pensione di inabilità piuttosto che indiretta o invalidità a colui che ancora sta lavorando perché il destino ha previsto questo mentre le pensioni future quelle che possono maturare solo dopo l'attività lavorativa sono la vecchiaia l'anticipata e la pensione superstiti reversibile queste pensioni maturano non in funzione del destino ma maturano in funzione della normativa perché è la normativa che mi dice quando maturerò la pensione di vecchiaia piuttosto che anticipata se oggi io vado a trovare un ragazzo di 30 anni io posso mettergli per gli scritto e firmare che lui per 37 anni questo rischio non lo incontrerà lui per 37 anni può star tranquillo che non deve pensare alla sua pensione di vecchiaia piuttosto che anticipata purtroppo caro il mio trentenne io non ti posso mettere per iscritto che invece oggi tu potresti avere a che fare con una pensione di invalidità di inabilità o indiretta perché non dipende dalla normativa ora se è vero che ci sono le pensioni che possono maturare ad oggi e quelle che potrebbero maturare solo in futuro allora è altrettanto vero che quando parlo di pensione io parlo di pensione come rischio che può maturare oggi e come rischio che può maturare solo in futuro due tipologie di rischi con orizzonti temporali differenti ma queste due tipologie di pensione ovvero queste due tipologie di rischio rispondono secondo voi alla medesima esigenza assolutamente no il cliente deve essere informato che il rischio pensione ad oggi quindi le pensioni che potrebbero maturare in questo momento rispondono a un'esigenza di protezione mentre quelle che possono maturare solo in futuro rispondono a un'esigenza di previdenza quindi è tassativamente obbligatorio parlare con il cliente di pensioni sia per quanto riguarda le pensioni future ma soprattutto per quanto riguarda le pensioni che potrebbero maturare ad oggi per cui noi abbiamo due tipi di esigenze l'esigenza di protezione e l'esigenza di previdenza la protezione riguarda quello che può succedermi oggi la previdenza riguarda quello che potrebbe succedermi solo fra 10 20 30 anni è una cosa professore direi una cosa molto importante chi ci sta ascoltando e chi rivedrà questa sul canale youtube da domani come dicevo gratuitamente per gli associati si possono estrapolare queste pillole che ci sta dando adesso professor di loro per inviare per poter trasmettere o nelle riunioni che farò utilizzando l'esperienza del professor Butadauro facendo divulgazione concreta con queste mini pillole di estrazione che ci saranno adesso lei professore sono molto utili chiavi di penetrazione secondo me perché noi viviamo nell'era dell'immagine e l'immagine estrapolata da un video con uno docente come lei può aiutare noi nel far la consapevolezza del qui ed ora per poter decidere la mia protezione e il mio futuro sono due cose molto importanti esatto sono perfettamente d'accordo anche perché una volta passato il concetto con il cliente che non ci sono solo le pensioni future ma purtroppo ahimè potrebbero esserci anche delle pensioni che possono maturare ad oggi e quindi fatto capire al cliente che siamo davanti a due tipi di esigenze da affrontare due tipi di rischi la protezione da una parte e la previdenza da quell'altra a qualsiasi cliente voi andate a domandare da quale delle due esigenze vuol partire per fare un'analisi io credo che la totalità delle persone vi risponda dicendo affrontiamo prima quello che potrebbe accadere a me alla mia famiglia oggi da un punto di vista di pensione pubblica attenzione quindi non sto dicendo al cliente come abbiamo sempre fatto fino ad oggi ti devi fare una polizza temporanea caso morte no 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 sto dicendo al cliente quale pensione pubblica vuoi conoscere prima quelle che possono maturare oggi o quelle in futuro perché purtroppo e dico purtroppo e mi sono sempre chiesto il perché io non ho mai incontrato un intermediario finanziario o assicurativo che sono 30 anni che faccio questa attività non ho mai incontrato un intermediario che sia andato a parlare di pensione con il cliente e lo abbia informato sulle pensioni che potrebbero maturare oggi tutti si sono sempre buttati sulle pensioni future con l'obiettivo di vendere fondi pensione piuttosto che PIP piuttosto che piani di accumulo ora io vi dico credetemi per esperienza personale che sono pochissimi i clienti che là fuori conoscono la pensione di invalidità di inabilità e la pensione indiretta pochissimi per non dire nessuno ma è normale perché l'informazione pubblica non c'è su queste pensioni fermati un attimo professore c'è saluto volentieri Monica Gardella grandissima esperta nel settore grandissima formatrice che dice non proprio tutti è vero non proprio tutti conoscendola personalmente ma penso che anche gli altri colleghi anche loro abbiano cambiato modo di comunicare con 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 le persone quindi ha ragione la riflessione della Monica Gardella non proprio tutti anzi il cambiamento c'è stato c'è tuttora in corso grazie Monica per il tuo intervento perfetto quindi davanti a questi due tipi di esigenza protezione e previdenza quale potrebbe essere la prima da affrontare non c'è alcun dubbio che la prima da affrontare è la protezione perché perché a un ragazzo di 30 anni ripeto con questo esempio poco o niente interessa quello che potrebbe succedere di solo fra 37 anni ma molto gli interessa quello che invece potrebbe succedere a lui o alla sua famiglia oggi per darvi un'idea vi ho portato alcuni esempi di importi reali di pensione il primo riguarda un lavoratore dipendente che lavora da 10 anni ha 35 anni di età è sposato con un figlio di 10 anni e ha avuto una retribuzione annua lorda media di 25 mila euro bene questo signore secondo me ha tutto il diritto di essere informato che se gli succede un'invalidità l'assegno che riceverà dall'Inps è di 266 euro mensili lordi attenzione lui ha un reddito di 25 mila euro se rimane inabile inabile sapete cosa significa significa che oltre ad avere un'invalidità al 100% deve cessare qualsiasi attività lavorativa quindi l'inabilità comporta la cessazione di qualsiasi attività lavorativa e di conseguenza la possibilità di produrre reddito bene questo signore per tutta la sua vita residua da inabile 100% invalido dovrà accontentarsi di un assegno mensile lordo di poco superiore a 900 euro e se dovesse per caso morire alla moglie e al figlio aspetterebbero 213 euro mensili mentre se il buon Dio gli darà la fortuna di arrivare in età pensionabile la stima la stima della sua pensione futura sarà di 1400 euro mensili 19.000 euro annui perché parlo di stima perché voi mi insegnate che quando io mi avventuro a calcolare un importo di una pensione fra 10 20 30 anni non posso avere un dato reale ma ho sicuramente ed esclusivamente un dato ipotetico una stima mentre per le pensioni ad oggi siccome sono calcolate effettivamente su quanto versato il dato è reale detto questo proviamo a spostarci con un commerciante che anche lui lavora da 10 anni e anche lui ha 35 anni di età ma ha due figli a carico uno di 8 e uno di 10 anni il reddito medio annuo ipotizziamo sia sempre di 25.000 euro se rimane invadido lui dovrà accontentarsi di un assegno mensile inferiore a 200 euro se per disgrazia dovesse rimanere inabile l'assegno sale a circa 700 euro mensili vi ricordo che l'inabile è quella persona che ha bisogno continuativamente di cure e di assistenza quindi non solo non è più portatore di reddito ma deve essere periodicamente giornalmente accudito se dovesse morire alla moglie e ai due figli spetterebbero 194 euro lordi mensili e se invece avesse la fortuna di arrivare in età pensionabile la stima della sua pensione sarà di circa 1000 euro al mese qui vi ho messo per rendere credibile quello che vi ho fatto vedere prima un dato del Consiglio Nazionale degli Attuali il quale vi riporta gli importi lordi mensili delle pensioni nel settore privato e pubblico liquidate nel 2021 in euro come potete vedere sono suddivisi tra maschi e femmine la pensione superstiti media è di 500 euro mensili l'inabilità di 886 euro mensili la vecchiaia di circa 1200 euro e l'anticipata di 2100 euro questi sono dati ufficiali delle pensioni liquidate nel 2021 sia verso i laboratori dipendenti privati che verso i lavoratori dipendenti pubblici quindi di enti locali o statali attenzione è una media tra le pensioni dei dipendenti del settore privato e dipendenti del settore pubblico quindi siccome è una media vuol dire che ci saranno importi sicuramente superiori a quelli che voi vedete ma ci saranno anche importi sicuramente inferiori a quelli a cui state guardando se andiamo a vedere ammesso che ce lo facciano vedere perché il mondo della previdenza pubblica non è solamente INPS voi sapete che c'è un pianeta a sé stante dove ci sono tutti i lavoratori liberi professionisti iscritti a casse di previdenza quindi ho voluto mettervi anche un esempio di pensioni che potrebbe maturare un dottore commercialista iscritto da dieci anni alla sua cassa coniugato con un figlio di otto anni e con un reddito annuo lordo medio di 50.000 euro se rimane invalido gli spettano 135 avete letto bene 135 euro mensili se rimane inabili 193 euro mensili lordi se dovesse morire alla moglie e al figlio spettano 155 euro mensili mentre se avesse la fortuna di arrivare in età pensionabile la sua cassa gli erogherebbe un assegno di poco superiore a 1000 euro mensili dobbiamo confrontarlo con il reddito medio di 50.000 euro ho voluto poi inserirvi anche un ultimo libero professionista che è uno psicologo per fare un po' un atto di terrorismo perché i psicologi sono tra i liberi professionisti che peggio stanno a livello previdenziale infatti vedete che lo psicologo che rimane invalido con 50.000 euro di reddito medio percepisce 161 euro al mese la stessa cosa per la pensione di inabilità perché perché ci sono casse che prevedono una maggiorazione figurativa per la pensione di inabilità e casse che non lo prevedono per cui dove è prevista la maggiorazione figurativa cioè vuol dire gratuita la pensione di inabilità è sempre superiore a quella di invalidità dove invece questo non è previsto le due pensioni sono identiche ed è il caso dello psicologo che se dovesse morire lascerebbe la moglie e il figlio con 128 euro mensili mentre la pensione futura è stimata in circa 850 euro ora andando abbastanza velocemente ma dopo aver visto questi dati è indubbio che quando parliamo di pensioni la prima cosa a cui dobbiamo prestare attenzione sono sicuramente le pensioni che potrebbero maturare oggi perché la prima cosa che dobbiamo fare è mettere in sicurezza il nostro cliente e la sua famiglia quando abbiamo messo in sicurezza lui e la sua famiglia allora siamo liberi di andare a pensare anche al suo futuro pensionistico e quindi parlare anche di previdenza e quindi di integrazione pensionistica ma l'errore grave che non dobbiamo fare è parlare con il cliente solo delle pensioni future perché facendo così il cliente non è assolutamente consapevole di quello che invece potrebbe maturare oggi faccio una battuta molto veloce professore facciamo parte della situazione nazionale consulenti patrimoniali nel senso che nel nostro sfera di intervento la consulenza patrimoniale è nel nostro DNA facciamo parte anche di questa soluzione proprio per quello che ci sta dicendo lei questi strumenti qui sono molto efficaci dal punto di vista proprio anche visivo e fattivo e tutti i colleghi che sono online adesso sanno benissimo quello che sta dicendo lei è il mezzo poi di divulgare di poter portare all'attenzione delle persone questo aspetto come diceva prima la Monica Gardella mentre lei stava dicendo dal punto di vista operativo quindi scendendo nel dettaglio già queste 3-4 slide sono concrete ed efficaci c'è un paio di domande che ho lasciato un attimo di Michele Tucci che ringrazio dice c'è uno strumento per calcolare le prestazioni di validità in abilità eccetera eccetera ci sono vari strumenti penso di sì professore ma certamente non è questo momento magari chi volete contattare direttamente poi con una mail vi può essere utile per darvi alcuni dettagli penso che sia fattibile o passando direttamente dalla segretaria di NCP che inoltre poi le mail le domande al professor Giuseppe per poter poi sviscerare questi argomenti eccoci qua sì Efeso sì è vero ce ne sono tanti strumentini ma questa sera non volevamo entrare poi nel dettaglio operativo così in profondità questo aspetto che ci sta dando adesso il professore è di aiuto secondo me molto concreto sì anche perché vorrei confortarvi grazie attenzione che dal 1996 in poi noi abbiamo una serie di assicurati e quindi di lavoratori parlo di gestione IPS ovviamente che sono entrate in regime di calcolo contributivo ora nel regime di calcolo contributivo io non ho e sottolineo non ho bisogno di nessuno strumento il sistema di calcolo contributivo è talmente semplice che lo posso fare con una banale calcolatrice una matita e un foglio di carta da macellaio ok quindi concentriamoci sul problema cerchiamo di capire qual è il problema per una persona che non è certamente il problema di integrare la pensione futura ma è il problema di aprire un ombrello per proteggere il suo patrimonio il suo patrimonio è quanto ha accantonato ma è anche il patrimonio umano cioè la sua persona e i suoi cari dopodiché per fare i calcoli vi ripeto è il problema veramente secondario e banale perché ormai sono passati 27 anni no 20 diciamo 27 anni in cui le persone sono in regime di calcolo contributivo ora è chiaro che se io vado da un sessantenne probabilmente lui ha ancora una piccola coda di regime retributivo dove lì i calcoli sono un attimino più complessi però il 90% della clientela ormai si trova in regime di calcolo contributivo e il regime di calcolo contributivo e chiudo qua non è nient'altro che la somma dei contributi versati fino ad oggi con l'applicazione di un coefficiente di conversione per cui non è il problema del calcolo è il problema di cultura di far capire alle persone che non c'è solo la previdenza ma c'è anche la protezione e che forse alla previdenza devo pensarci dopo che ho risolto il problema della protezione perché una persona che ha 37 anni mi rimane su una sedia a rotelle inabile con 900 euro al mese mi dite a cosa è servito aver versato per 10 anni in un fondo pensione non è servito assolutamente a nulla bene allora e qui c'è un pochino la conclusione di tutto quanto attenzione che quando parlo di previdenza il mio obiettivo qual è? riuscire a mantenere il tenore di vita in età pensionabile questo è l'obiettivo della previdenza ma quando parlo di protezione caro il mio cliente attenzione che l'obiettivo non è il mantenimento del tenore di vita ma l'obiettivo è garantire la sopravvivenza perché con quelle cifre che abbiamo visto prima si mette a rischio non il tenore di vita ma la sopravvivenza quindi è lampante che forse è molto più grave dover vivere con poche centinaia di euro al mese su una sedia a rotelle piuttosto che andare in pensione col 50% dell'ultimo reddito quindi quando parliamo di rischio pensione attenzione che le varie pensioni che potrebbero maturare possono creare un danno più o meno elevato le pensioni future possono sicuramente creare un danno economico medio l'invalidità medio alto l'indiretta il danno è molto alto e l'inabilità ha un danno economico elevato ancora più alto della pensione indiretta qui vi ho messo un grafico dove vi riporto un quadro che misura i rischi vedete che il rischio può essere misurato in base all'impatto economico che può causare e alla probabilità di accadimento ora riguardo alle pensioni quelle future vecchiaia anticipata hanno una probabilità ringraziando Dio alta di maturare ma il danno economico che provocano quando maturano è posso definirlo basso medio o basso ma quando vado a vedere la pensione di invalidità la probabilità di accadimento non è alta ma è media e il danno economico è altrettanto medio perché vi ricordo che l'invalido potrebbe anche proseguire l'attività lavorativa mentre quando si parla di pensioni di inabilità e indiretta ringraziando il cielo la probabilità di accadimento è bassa o molto bassa ma attenzione che se accade il danno economico potrebbe essere molto elevato ecco un altro concetto importante quando il danno economico derivante da un rischio delle pensioni ad oggi può accadere può essere provocato scusatemi non può essere gestito in proprio perché questa tipologia di danno deve essere totalmente o parzialmente trasferito attraverso uno strumento assicurativo l'assicurazione trasferisce il danno economico in caso accada un evento quindi per l'inabilità e la pensione indiretta è sicuramente obbligatorio trasferire il danno economico il trasferimento può avvenire ovviamente o parzialmente o totalmente ma non me lo posso tenere sulle spalle questo è un grafico che a me piace molto perché quando si parla di previdenza noi abbiamo la fortuna di trovarci davanti a una persona a cui durante la fase lavorativa non è successo nulla non è successo nessun grave imprevisto quindi lui tranquillamente lavora arriva in età pensionabile e ovviamente subisce una decurtazione dello stipendio rispetto alla pensione ma non credo che questo rappresenti un grandissimo problema mentre quando parlo di protezione il discorso è diverso che quando parlo di protezione vuol dire che durante la vita lavorativa è successo un evento shock per cui a un certo punto della mia vita io mi ritrovo ad avere un danno economico notevole che si riflette sia su di me ripeto che sui miei cari che sul mio patrimonio accumulato fino a quel momento qui non sto a dirvi nulla perché la piramide di una buona pianificazione finanziaria la conoscete tutti ma questa piramide non può essere costruita senza fare delle fondamenta se le fondamenta non ci sono in caso di un evento shock questa piramide crolla quindi è assolutamente necessario prima di fare una buona pianificazione finanziaria fare delle ottime fondamenta perché in caso avvenga un evento shock questo evento non venga a distruggere tutto quello che ho creato il ruolo dell'intermediario finanziario e anche quello assicurativo non può assolutamente prescindere da quello di consulente per la protezione del patrimonio del cliente guardate questa cosa qua che mi ha impressionato nel 2020 sono stati spesi in Italia per giochi oltre 100 miliardi di euro mentre nello stesso periodo 2020 il risparmio destinato alla protezione quindi al rischio biometrico è stato di poco inferiore ai 5 miliardi questo la dice lunga quando io sento l'obiezione non ho soldi non me lo posso permettere questa è un'obiezione emotiva perché è una questione di cultura 100 miliardi spesi nel gioco 5 miliardi neanche 5 destinati alla protezione 100 miliardi ufficiali poi c'è sappiamo che il gioco ha altri canali sono molti di più sono molti di più sono molti di più sì sì mentre sono assolutamente ufficiali i 5 miliardi destinati alla protezione quindi sarete penso d'accordo con me che si tratta esclusivamente o nella maggior parte dei casi di cultura di una cultura sbagliata preferisco spendere 5 mila euro all'anno in gratta e vinci piuttosto che farmi delle forme di protezione per me e per la mia famiglia bene siamo arrivati all'ultimo blocco se ci sono domande obiezioni qualsiasi tipo di cosa domande costruttive obiezioni no domande costruttive direi che possiamo andare veloci perché il tempo ci sta incalzando siamo in leggero ritardo ok possiamo proseguire allora la dinamica eccolo qua della demografia qui avete una slide dei pensionati nel 2002 l'anno scorso 2022 e una stima a 2044 da qui potete notare sempre un dato del consiglio nazionale degli attuali qui si nota chiaramente che la dinamica delle pensioni è in salita cioè il numero dei pensionati tende ogni anno ad aumentare e non stiamo parlando di tutti gli aspetti demografici eccetera eccetera perché non è il luogo e non abbiamo tempo ma sicuramente io da qua vedo che il numero dei pensionati è destinato a salire mentre guardate sotto la dinamica della popolazione attiva quindi in età attiva vuol dire tra 15 e 64 anni è costantemente in diminuzione per cui noi abbiamo un futuro davanti dove aumenterà il numero di pensionati e diminuirà il numero della popolazione in età attiva da 15 a 64 anni se poi aggiungiamo la dinamica della natalità e quindi parliamo di denatalità questa dinamica precipita noi stiamo per essere tra gli ultimi paesi in termini di nascita questo ovviamente non ha una conseguenza immediata sull'aspetto previdenziale ma sicuramente nel futuro fra 15 20 anni anche questa dinamica della denatalità avrà un effetto sul nostro sistema previdenziale siamo a conoscenza dell'inverno demografico che ci sta battendo e ce la giochiamo col Giappone e ce la giochiamo col Giappone e ce la giochiamo col Giappone faremo una finale Italia-Giappone tutti col catetere a correre per il campo esatto esatto quindi il problema amici miei non è superare la riforma Fornero il problema vero è mettere ordine e riparo ad un sistema previdenziale pubblico che è a rischio di sostenibilità la spesa per le pensioni è arrivata nel 2021 a 13 a 313 miliardi di euro il 17,6% del PIR tra i più alti in tutto il mondo quindi è lampante che il ruolo della presidenza pubblica dovrà sempre più arretrare dovrà avere sempre più un ruolo marginale per lasciare spazio alla previdenza privata ecco il perché da urgenza a necessità ok e stiamo parlando di previdenza quindi stiamo parlando di pensioni future non dimentichiamoci poi delle pensioni ad oggi e quindi dell'aspetto sanitario nel nostro paese parlare con il cliente di pensioni e analizzare insieme a lui la sua situazione previdenziale pubblica ovviamente offre sicuramente una grande opportunità commerciale con l'offerta di soluzioni adeguate parlando con il cliente della pensione ad oggi e futura io ho delle opportunità commerciali enormi cerco di spiegarmi meglio è diverso proporre a cliente un fondo pensione perché può dedurre dall'offrire un fondo pensione perché gli ho fatto un'analisi e gli ho fatto capire che lui quando arriverà in pensione non potrà contare più del 50% dell'ultimo reddito sono due modalità di comunicazione differenti è diverso dire al cliente perché non ti fai una bella temporanea casamorte perché se dovesse succedere metti al riparo la tua famiglia piuttosto che parlare con il cliente se conosce le prestazioni delle pensioni ad oggi se non le conosce come nella maggior parte dei casi te le spiego io le pensioni che possono maturare oggi sono invalidità inabilità superstiti e la pensione superstiti che tu oggi hai maturato è di questo importo guardate che facendo così l'offerta di una temporanea casamorte non la devo neanche fare perché informare il cliente significa sensibilizzarlo l'informazione sulle pensioni future lo sensibilizza sono d'accordo con voi ma poi c'è l'aspetto psicologico del troppo tempo che manca mi stai dicendo che devo fare dei sacrifici oggi perché fra 35 anni ne avrò un ritorno quando parlo di pensioni ad oggi io ti sto chiedendo di fare dei sacrifici oggi per quello che potrebbe succederti oggi è diverso è mostrare al cliente i 1200 euro di pensione di vecchiaia dal mostrare al cliente i 600 euro della pensione di inabilità quindi signori parlare di pensione con il cliente sia future che ad oggi è una chiave di ingresso una leva commerciale molto potente per proporre soluzioni adeguate ripeto sia di integrazione che di protezione analizzare solo le pensioni future significa parlare ovviamente di previdenza integrativa o complementare perdendo in questo modo tantissime occasioni di vendita ma soprattutto scusatemi se ve lo dico significa non fare una buona consulenza parlare anche non solo di pensioni ad oggi e quindi di protezione significa analizzare con il cliente le prestazioni pubbliche offerte dalla sua gestione previdenziale questo rappresenta una potente leva commerciale per fare consapevolezza nel cliente di quello che potrebbe maturare oggi perché i clienti di queste pensioni ad oggi non ne sanno nulla e di conseguenza il rovescio della medaglia è che parlare di pensioni ad oggi e quindi di protezione mi offre l'opportunità di presentare al cliente delle adeguate soluzioni di protezione ma soprattutto parlando anche di pensioni ad oggi io faccio una buona e ottima consulenza per quanto riguarda le soluzioni io non voglio offendere nessuno però penso che tutti voi siete in grado di capire quali possono essere le soluzioni per una possibile forma di integrazione piuttosto che di protezione quindi quando si parla di integrazione previdenziale gli strumenti più idonei sicuramente sono i fondi pensione i PIP ma non dimenticate che lo stesso risultato può essere raggiunto anche con altri strumenti che esulano dalla previdenza complementare e che possono essere PAC assicurativi piuttosto che PAC finanziari tutti questi sono strumenti che raggiungono il medesimo obiettivo ovviamente strumenti con caratteristiche diverse e quindi adatti a clienti differenti mentre quando parlo di protezione via di uscita alternativa non ce ne sono quando si parla di protezione le soluzioni sono sicuramente e solo le temporanee caso morte le polizze di invalidità da malattia e infortunio le polizze per la non autosufficienza e le cosiddette dread disease o polizze per malattie gravi professore ci stanno lasciando qualcuno perché l'interesse è stato altissimo fino adesso alcuni colleghi ci stanno lasciando troveranno poi il video infatti io ho lanciato l'ultima grazie per la partecipazione siamo in sintonia perfetta direi che le domande possono poi confluire sicuramente alla segreteria di NCP per il corredo tra le a professor Guttadauro non in questo momento qua non in questa sede qui perché non potremmo rispondere a tutti in maniera efficace ed esaustiva sicuramente gli strumenti che ci ha dato oggi sono veramente grazie a tutti quelli che hanno partecipato innanzitutto sono strumenti che ci hanno fatto riportare al qui ed ora anche per noi stessi ma anche per le persone non vendiamo nulla ma proponiamo consulenza proponiamo divulgazione e consulenza questa è la filosofia di NCP penso condivisa da tutti quindi sì non si vende nulla ma si vende una buona consulenza una buona protezione proteggi oggi il tuo futuro proteggilo oggi questa è la nostra cosa con cui ci lasciamo e direi di ringraziare sicuramente tutti quelli che hanno partecipato del professor del professor del professor Lutadauro ringraziare la regia Angelo Marelli per quanto riguarda questa bellissima opportunità di questo secondo incontro tematico per quanto riguarda il webinar tematici di NCP e ricordo a tutti l'importanza di iscriversi al canale YouTube perché non vedo ancora i click fatti al canale YouTube di NCP e la convention di NCP dell'8 di giugno perché Angelo Marelli mi ha puntato a una pistola mi ha detto ricordolo sicuramente e con piacere ricordo a tutti ringrazio il professor Lutadauro e NCP questa bellissima serata di ringrazio a tutti quelli che hanno partecipato e alla prossima eventi di NCP ringraziando tutti quanti un forte abbraccio grazie professore grazie a voi per la partecipazione e alla prossima grazie alla prossima alla prossima